Come ti chiami? Vito. Vito che cosa hai fatto oggi? Ho guidato la Ferrari. L'hai guidata tu? No. L'ha guidata il nostro pilota? Sì. E tu sei stato un passeggero d'eccezione vero? Sì. Senti quanto è andato veloce? Non lo so. Tanto? Sì. E quanto ti sei divertito? Assai. Sono molto molto felice. Da grande la vuoi guidare tu la macchina? Sì. Allora aspettiamo che cresci un poco un poco in più e poi la guidiamo? Sì. Vogliamo chiedere anche a Babbo se sei divertito? Sì. Vediamo. Tu come ti chiami? Francesco. Francesco come è andata? Bene, bella esperienza. Peccato la pista un po' piccolina però bella esperienza. Quindi ci seguirai anche in un circuito più grande? Non ho mai guidato in un circuito più grande però vorrei provare questa esperienza anche sì. Se ti va di seguirci? Io ho visto che ci sono piste un po' in giro per l'Italia. Senti, come ti è venuta l'idea di portare il tuo figlio con te? Gli piacciono le auto, è appassionato di auto e qual è la migliore occasione per fargli provare questa esperienza? Hai fatto benissimo, sono sicura che sei divertito. Diciamo ancora alle persone quanto ci siamo divertiti? Digglielo a lui, vedi? Digglielo a lui barbuto. Quanto ti sei divertito? Tantissimo. Sì. Due giri velocissimi. Va bene, ci rivediamo la prossima volta sempre insieme a papà. Lo sai che è il papà più bravo del mondo che ti ha fatto vivere un'emozione stupenda? Sì. Abbiamo avuto un'invasione di campo, non fa niente, è il bello della diretta. Vogliamo salutare i nostri amici? Sì. Ciao. Ciao. Grazie mille, ti restavi gentilissimi. Alla prossima, a voi. Ciao.